buonasera cari amiche cari amici ah no però sposto un attimo così si vede bene anzi mi han detto che non devo impallare ho letto qualcuno non devo impallare Pippo Enzaghi scusa Pippo là c'è il piatto del decimo scudetto lì Pippo Enzaghi in una delle sue meravigliose esultanze mi ha dedicato la pagina che lui ha comprato sulle pagine della gazzetta dello sport quando si è ritirato con una firma Pippo Enzaghi quindi la location è giusta l'acqua al che Gagliardetto che ricorda le finale di Champions League direi posizione decimo scudetto finale di Champions League Pippo Pippo mio location perfetta cari amiche cari amici ho bisogno del computer davanti perché questa sera c'è il Q&A e vi invito sempre a iscrivervi al mio canale YouTube ad attivare la campanella a mettere i vostri like ai video e non dimenticate mai di scaricare dal link in descrizione all'applicazione numero 10 siamo alla vigilia del derby poi parleremo del derby approfittando del vostro Q&A ma sembra veramente una maledizione questa mattina le parole di Gerry Ricardinari la nostra proposta è supportata da un volume imponente di relazioni tecniche parla dello stadio sarà uno stadio all'avanguardia 10 minuti di metro dal Duomo porteremo eventi dal vivo artisti di fama mondiale suoneranno lì un'opportunità mancata per Milano con nostro forte rammarico perché ho maturato grande stima per il sindaco Sala giuste le public relations sono deluso soprattutto perché ci sono state alcune minoranze pregiudizialmente contrarie che hanno sbarrato la strada anche al progetto Lamaura sarebbe stato l'impianto sportivo più verde al mondo con l'85 per cento dedicato al verde e solo il 15 all'area cementificata e sono parole chiare di un imprenditore che vuole regalare a Milano con i suoi soldi e non con i soldi pubblici uno stadio un grande impianto è chiaro che San Donato si è abbastanza avanti lo ha detto anche il governatore il governatore della Lombardea proprio ai microfoni degli amici di Radio Rosso Nera quindi si va avanti per San Donato per si va avanti con San Donato quando ecco qua attenzione arrivano i politici anche a San Donato legittimamente io non sto a non vi dico neanche di che partito non voglio entrare in questo in questa situazione e però ci sono i contrari perché parlano di inquinamento ambientale ed acustico ricordava ironicamente qualche giorno fa Luca Serafini dice d'accordo inquinamento ambientale acustico però stiamo parlando di una di una zona dove parlano di inquinamento ambientale acustico nato una volta era la zona di Metanopoli con con gli aerei che devono scendere sull'inate praticamente sempre sopra il cielo e lì c'è veramente l'inquinamento acustico però ecco che la Michela Palestra consigliera regionale del patto civico ed ex presidente del parco sud dice bisogna fare chiarezza le obiezioni che hanno impedito ai club di portare avanti i vari progetti di un nuovo stadio Milano non possono essere ignorate o aggirate semplicemente perché adesso gli stadi si fanno nei comuni dell'Interland non c'è niente da fare è proprio una questione di principio la regione vuole la città vuole però credo che questa volta pur tenendo conto delle proteste come dico sempre io legittime di chiunque perché siamo in democrazia e si può protestare contro un'iniziativa però a ragione Gerry Cardinale non siamo pregiudiziali andate a esaminare che cosa potrebbe offrire alla a quella zona al parco sud un parco sud che come la Maura anch'io faceva un grande tifo per la Maura poteva essere una grande opportunità adesso la Maura ha tanti concerti lì però non vedo che non si lamenta nessuno e San Siro a sentire quello che dice quello che dice Gerry Cardinale se fosse stata esaminata a fondo la proposta il progetto della Maura può darsi che sarebbe stato anche accettato dai dai vari comitati di quartiere un conto è dire no non voglio San Siro a prescindere potrebbero rivalutarmi il quartiere gli appartamenti potrebbero valere di più ci sarebbe molto più verde i bambini avrebbero avuto dei parchi giochi degli stadi vicino dei campi di gioco lì vicino no non vogliamo San Siro punto quindi anche adesso è la stessa cosa per San Donato mi sembra un po più dura questa volta opporsi perché veramente siamo fuori Milano è un parco dove però c'è un parco enorme dove San Siro sarebbe una parte e sicuramente parlando con Gerry Cardinale mi sembra una persona potrebbe esserci tutti i difetti del mondo ma mi sembra così epidermicamente una persona appassionata e di buon senso e essere di buon senso è già un bel punto di partenza stiamo andando verso quella direzione quando ecco che la maledizione ancora della burocrazia di che contrario speriamo che questa volta possano essere convinti con i con i piani con i progetti visti più tutte le parti politiche tutti i vari comitati di quartiere lasciano mettere nero su bianco a livello di progetto poi eventualmente possano possono essere ripeto in disaccordo ma almeno guardino i progetti all'amaro non hanno visto un progetto non vogliamo San Siro punto stop poi se ne pentiranno e si terranno i concerti andrà via anche l'ipodromo rimarrà la questo quest'erba immensa la così rimarrà un parco tanta terra verde e poi se va bene così andrà via ripeto l'ipodromo che si trasferirà a San Siro Trotto e se questo piacerà ai cittadini della Maura benissimo poteva essere un'occasione hanno deciso il contrario stessa cosa anche per San Donato però io spero che lì vinca mi auguro il buon senso e dopo aver esaminato i progetti ci sarà direi una maggiori maggiori possibilità di confronto e magari di essere convinti della bontà dei progetti adesso andiamo al Q&A quindi parliamo di derby e sicuramente ci saranno tante domande proprio sulla questione derby e partiamo allora Flavio Biz noi vogliamo la vittoria Carlo il tuo pronostico sono fiducioso il pronostico è sempre difficile sono fiducioso il Milan sta bene ha dimostrato di essere in forma come l'Inter sia l'Inter che a Milano hanno i problemi punto interrogativo del ritorno dopo la sosta però fido molto delle delle sorprese tattiche di Pioli Vince Arts ciao Carlo domani vedremo un Milan diverso rispetto a quello degli ultimi derby dobbiamo vedere vediamo se c'è qualche novità dobbiamo vedere un Milan diverso dagli ultimi derby e soprattutto dal derby di ritorno il punto più basso della filosofia del Milan degli ultimi anni sicuramente vedremo un Milan diverso Fabri 3N come è possibile che ci abbiamo messo così tanto a capire che Calullo avesse una lesione io non so se hanno effettuato magari c'era un edema e prima di fanno succede spesso quando c'è un edema non si rilecografia non può o la risonanza non so cosa abbiamo fatto non può andare dentro a vedere perché c'è la copertura dell'edema cioè del sangue e quindi quando si toglie sono sembra un medico si toglie l'edema ecco che si può capire di più quale sia la situazione quello che è successo per Calullo probabilmente che secondo me speriamo di riuscire a recuperare o per Borussia Dortmund o per il Genoa Filippo Galli tutti i derby giocati le 18 li abbiamo vinti la vedi bene che bella statistica come me la tengo cara caro Filippo Galli che non so se sia proprio Filippo Galli o il nickname Xilippo 91 andrei a vedere la prima Champions del Milan contro il Newcastle sì andrò anche in trasferto ho già preso i voli così risparmio i voli io e mio figlio e andremo a Dortmund andremo a Newcastle e andremo prima a Parigi dove il pomeriggio ci sarà una bella riunione a Hôtel ostacoli perché Hôtel è porta a Saint-Clou venerdì prossimo c'è il mio cavallo che corre a Saint-Clou e lì c'è l'ippodromo di Saint-Clou c'è l'ippodromo di Hôtel credo che ci sia anche anzi c'è lo stadio del Parco Epreens tutto lì ho trovato un albergo lì cavalli nel pomeriggio conferenza stampa di Pioli andiamo a vedere il mio cavallo giorno dopo sarà un meraviglioso metà settimana Giuseppe Morina speriamo che il centrocampo domani aiuti la difesa lo faranno dobbiamo farlo Pioli vuole che lo facciano Pioli ha studiato bene vediamo se poi verrà applicato tutto quello che ha deciso Pioli ma sicuramente Krunic secondo me non si alzerà molto perché Cardinale ha cacciato Maldini la mia opinione te la dico chiaramente ormai c'era divergenza non c'erano più forse i modi per andare avanti piuttosto di passare un altro anno con Musi Mugugni incomprensioni Cardinale ha deciso di mandare via Maldini ha fatto bene o no non lo so lo dirà il tempo la campagna qui ti è stata buona e poi adesso vediamo i risultati Graziano Caputo io fiducia in Chiere tu ma certo ma certo dobbiamo avere fiducia è stato molto secco oggi non vuole sentire parlare di Chiere è un giocatore della nazionale danese capitano ha fermato benissimo me lo ricordava oggi nella trasmissione pelle rossonera da Simone Cristau e da Beatrice Sarti a radio rossonera e ha fermato benissimo Kane e ha fermato benissimo un grande giocatore e quindi dobbiamo contare su di lui Alessandro Santrone sicuramente siamo più forti dell'anno scorso ma basterà sì adesso non è che incontriamo la squadra del resto del mondo incontriamo una forte Inter però che nell'ultimo testa a testa non dell'anno scorso ma di due anni fa è arrivata a seconda quindi dio mio sì ciò che voi zocca fuori Musa non partono mai dall'inizio ma che li abbiamo comprati a fare adesso chi è che è questo che me lo scrive non mi c'è scritto adesso vedrai col Verona li vediamo sicuramente in campo quale rossonero 335 quali sarà la strategia Piodi per il derby credo che sentire Luca Didi che collabora con me sul mio canale Twitter ha forse dice lui non lo so molto larghi leao Teo Hernandez dall'altra parte Pulisic per gli inserimenti di Loftucic e Reinders questo è facile sulla carta vediamo poi le contromosse di Zaghi Massimiliano Destro ma Tonali cosa ha fatto per essere considerato uno come Gattuso Cacao Maldini è un cuore rosso nero si è tolto te lo dico subito si è tolto i soldi soldi Vildenaro per venire al Milan non basta Francesco di Furia dove pensi che si vinca al derby centrocampo esterni difesa e attacco difesa e attacco vuol dire che la difesa lavori bene concentrata e la davanti leao e giro e Pulisic ci sarai domani al derby Marco Loxi ci sarò andiamo qui Andre Vello ma i soprannome degli altri nuovi arrivati arrivano arrivano vi giuro Mirko Nozzo un video con Didi sulle prime giornate di Girù va bene ne parleremo Giacomo Bietti hai mai fatto il fantacalcio mai Matteo Cicconi a prescindere dal risultato finale sarà un derby con tanti gol secondo me sì Andrea Limonci sarà un derby particolarmente animato piuttosto calmo animato Marco Frattasi novità su Megnan no stanno lavorando sul contratto chi può vincere Andrea Casella può già fuggire domani se vince il Milan spero che sia la prima piccola fuga se vince non diciamo altro ai alle roller buonasera Carlo chi sarà l'uomo derby rosso nero chi è se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale youtube di Carlo Grazie per la visione